Sono Simox e sono in compagnia con... Matic! Oggi facciamo un po' di arena così se voglia Eeeh, voglio chiedetesi ragazzi, abbiamo trovato finalmente i main Io sono Simox e Mati è Matic Scusate perché stiamo molto in ritardo in questo video perché purtroppo abbiamo avuto problemi di scuola Sì, e anche gli aggiornamenti che fanno di Lseason Alcuni non servono a niente Dove si va? Ah Simo lo sai che ci sarà un nuovo calpazzo, ma è cambiato il calpazzo Dai, di poco Prima tenevo un po' davanti Ah, eeeh... Raga, io sono salito di divisione un botto L'ultima volta che abbiamo fatto arena avevo 500 punti mi sembra Ci sono scordati di divisione che siamo in arena in coppia Sì, hanno riaggiunto arena in coppia, singolo, terzetti Eeeh, raga, tra 23 giorni Uscirà la nuova... tra 23 ore scusate Uscirà la... come... la Coppa Marvel che... Marvel Oh, senti... Coppa Marvel che praticamente... per giocarla dovete avere un compagno di squadra perché è da due E... come si dice, l'autentificazione a due fattori, uno dei due E' però dovete avere il 2 fa a tutte e due 2 fa No Sì Allora, per esempio il tuo compagno... Per esempio il tuo non è il 2 fa, ma il tuo compagno si Il tuo non lo so può fare Ah, no, ho capito Però vabbè, Matti, tu lo vuoi fare Grazie a Matti Dovrebbe essere così Mmm... forse Se i calcoli di quello youtuber sono giusti E se la mattica non è una pignone Aiuto Questo qua, raga, è il nostro nascondiglio mio animati X Mi dimentico il senso Eh Vabbè, adesso lutiamo un po' E poi vediamo Di legno? No, di margola Mmm... Ah, raga, a voi piace il combat? Scrivetelo qua sotto nei commenti A me a volte piaceva A volte, però adesso non mi piace più perché... Hanno migliorato il danno, sai perché? Hanno diminuito il danno degli artigli di Wolverine Che hanno aumentato il danno del... del... del robot Eh, cos'è, sei uno dell'epic, sei tutto Eh, se... non è quanto mi piace... Se ti informi Eh, ecco Dai, siamo già in 52 Se non siete dei bimbi cattivi O adulti, chiunque segue questo canale Sto canale Ah, io sono full di legno Sì, ma... Sì, ma... C'è... C'è, 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 c'è una canna da pesca... C'è... Eh, quella... La canna da pesca... C'è una forza Stata su Aspetta che sta quella forza Ok Io sono formatone Io me lo formo Ah, raga, se voi non siete ancora entrati in... fornite Eh, da Switch e da PS Da tutte le piattaforme hanno aggiunto questo piccone qua Che perché gioca da... Dal capitolo 1 Dal capitolo 1 È brevemente... Lo sa come... Che cos'è È il piccone OG di fornite Ed è gratis Da Nintendo Switch e vai nelle due soggette a questa 0 euro Sì, pure dal nostro Ah, ok Salta su Adesso, ragazzi, è riscattabile fino al... Dai, Matti 15... 15 gennaio 2021 Sì Ah, io sono comunque... Sono full di legno e matanella Io no Vabbè, adesso... Non so... Dove andiamo? Eh... Andiamo in a ferma, non c'è una cosa tranquilla No, ok Vabbè, raga, poi... Che ne so, Matti, dove andiamo? Uh, in fronte, sì, ma in sei Ma... Non so se fare la tattica Tieni lo flopper Lo tengo io Sì, ma tanto porto Gimini Ah, quanti ne hai? Uno E c'è Ah, beh, senti mati... Buongiorgio Eh, ce l'ho Vabbè, ragazzi... Ci becchiamo quando tremo gente, dopo Ok, Matti, non chiudo, non chiudo... Non, 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 non chiudo, poi taglio Taglio il pezzo Hai messo in pausa il video No, no, non lo metto in pausa, poi taglio 5-10 minuti Sì? Eh... Vai, vai Sì, andiamo verso... Stark Attento, eh Dov'è? È dentro? Ah, Maria, c'è un vampa Attento, eh Non c'è, non c'è giù Attento che è dentro Aspetta C'è il suo amico lì, dovrebbe essere Stanno restando il suo amico, vieni, corri Ragazza, Rina, madò Quanto è competitive È qua? Sì, ma lì c'è il mio comparto basso Fannelo vedere Eh, aspetta Dov'è? Qua? Morti Ok Raga, abbiamo fatto... Vabbè, l'azione Eh, no Purtroppo C'è ancora Iron Man? Ok, raga Matti, ho otterrato Iron Man No, c'è solo la schedina Ah, è vero Che non lo bussi, ragazza No Ora non è andato Se volete ci derivano Soltanto per All'altra volta Ormai Non c'è più niente Quindi Se volete andare dal vol Per il non c'è andato Raga, comunque Io, Matti, siamo Eh, no C'è uno shieldino E un pesce Eh, poi ci sono altri shieldini Portali Vada Ah, io sono full di tutto Io pure Ok Andiamo a save Sì, dobbiamo attivare le nostre armi Le facciamo vedere Questa è la mia copertura Ah, ok Bene Vabbè, sta parte qua Devo tagliare Non devi venire Quando sto facendo con Matti Quando parlo Così ad alta voce Non devi venire Perché sto registrando Mamma mia Ok Andiamo in safe Matti Sì, sì Poi come scendiamo C'hai i bouncer Poi ti fa venire fame Qua c'è l'anno Ah Poi ti fa venire fame Aspetta Vieni Voglio fare il pro No, Matti Potremmo morire Malissimo Oh, no Io voglio fare il pro Ok Che fei Che fei Aspetta No, no Aspetta Aspetta Eh, l'ho mancato Dai Uffa Vabbè Ci ho provato Dai, di pochissimo Che No No Ragazzi Non state Voi vicine Arresta Con le No Vabbè Ragazzi Non è che sono così No Restami Ressami Qua Matti No Qui c'è il Anche perché Tanto Arrivò 800 Di vite Andiamo Ma quanto Quanto è che Fanno i pesci Adesso Perché una volta Facciamo 500 50 Scusa 40 Non hanno diminuito Di 10 Sì Io pensavo di arrivare a 100 Eh sì Va Beh Ciao Niente Ok Matalo Sì eh ci provo Sì, l'oro stanno andando in sei. Poi di là ci hanno riuscito a fare lo scasso. Ok, prendi un canale! Per il canale! Prenditi lo scasso, prenditi lo scasso! Corri! Prenditi il canale! Sì, sì! No, c'è una voce! Che fortuna che ti possa avessare! No! Di Gesù! Sì, sì! Occhio, sì! Occhio, sì! Sì, sì! Ti vedono! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Tanto lo toglio! Tanto lo toglio! Dove? Lì! Quale c'è sfuglio? Allora, gira! Guarda per te! Aspetta! Mattei perché mi hai distratto? Ma te, perché mi hai distratto? In me, in me!